Buonasera, sono il cantautore Gianfranco Lombardi. Volevo approfittare di questo mio spazio su internet per invitarvi il 28 giugno di martedì, se non erro, alle 20.30, in oratorio CG 2000 di Chiari, tutti i miei sostenitori, naturalmente chi è libero in quel giorno, a seguirci dal vivo in oratorio. Sei canzoni, le mie, di cui l'ultima a chiusura della serata accattivante, non vi anticipo nulla, e poi altre performance di altri artisti, bambini e non, in questa simpatica scuola civica musicale, dove si fa musica con convinzione, con amore, e dove ognuno di noi manifesta ciò che è. Naturalmente la musica è cultura, non è solo professionalità, ma è cultura, è amore, è convinzione, ognuno porta così ciò che è, ognuno difende la sua tesi, ognuno difende il suo modo di essere come musicista, ed è giusto che sia così. Perciò io invito tutti, in oratorio, ripeto, 28 martedì giugno, a partecipare alle ore 20.30 a questo saggio, che sarebbe poi il saggio per me, io faccio sei anni, in collaborazione con i miei professori, e perciò, ed è importante, è importante perché, e poi, perché vi invito, perché comunque, oltre alle luci psicadeliche ci saranno quelle occhio di bue, sarà una cosa più accattivante, stile concerto, creeremo l'atmosfera giusta, poi due canzoni saranno, con queste luci, occhio di bue, da grandi artisti, quelle napoletane, voglio mare, voglio sole, e poi praticamente un'altra, che adesso non mi ricordo, comunque, e poi in tutto io ne canterò sei. Perciò, sicuramente, la serata è particolare, non penso che vi annoierete. Naturalmente, per chi è libero, ha intenzione di venirci a trovare, e di cogliere il mio invito, altrimenti non mi offendo. Buonasera a tutti. Grazie per l'ascolto.